Buongiorno a tutti, mi chiamo Nanni Fontano, ho 45 anni e sono un fotogiornalista. Ho iniziato a lavorare una ventina d'anni fa, seguendo la cronaca e l'attualità per alcune agenzie di stampa nazionali e poi internazionali, mentre da una decina d'anni sono un fotografo indipendente e mi occupo prevalentemente di progetti di reportage a sfondo sociale. Ho iniziato a fotografare quando ero già abbastanza grande, studiavo all'università, avevo 23 anni, studiavo economia e commercio ed arrivavo da un passato di studente del liceo scientifico e questo per dire che non mi ritengo una persona particolarmente creativa e che quindi della fotografia in realtà l'aspetto appunto creativo, quello tecnico, sono le cose che mi hanno interessato sempre di meno. Quello che mi ha interessato invece da subito è quel potere documentale della fotografia, il potere di raccontare la realtà e quindi di fornire uno strumento per comprenderla meglio. La fotografia per me infatti è sempre stata uno strumento, mai un fine, uno strumento prima di tutto con cui lavorare su me stesso, quindi a livello personale è uno strumento attraverso cui uscire dalla mia zona di sicurezza, crescere, possibilmente migliorare come persona e comunque come strumento per comprendere appunto meglio la realtà che mi circonda e la vita che vivo. E poi l'ho sempre ritenuto uno strumento per gli altri, rivolto agli altri, alle persone che guardano le fotografie che noi fotogiornalisti proponiamo loro, uno strumento con cui appunto informarsi e sviluppare quindi un pensiero critico sugli accadimenti e su ciò che appunto succede nella società. Il progetto di cui vorrei parlarvi oggi si chiama Mad People, è un progetto che ho realizzato tra la fine del 2010 e la prima metà del 2011 per conto di una fondazione che si chiama Anna Lind e che è una fondazione che si occupa di scambi interculturali tra i paesi dell'area mediterranea ed è un progetto che ha riguardato i giovani, cioè la finalità del progetto era quella di indagare la vita dei giovani che abitano nelle grandi città sulle sponde del mar Mediterraneo e capire in quel momento quali fossero le loro aspirazioni, le loro preoccupazioni, la loro visione della vita. A posteriori ovviamente possiamo dire che il progetto ha fotografato un momento estremamente importante, interessante, soprattutto alla luce di quello che poi è successo nei successivi dieci anni, a partire dalla rivoluzione in Egitto, con la guerra in Libia, in Siria. Ed è stato interessante anche appunto a posteriori vedere come effettivamente dalle parole dei ragazzi che ho intervistato insieme al collega Alberto D'Argenzio, come venissero fuori proprio queste preoccupazioni che effettivamente poi si sono trasformate in azione. La grossa differenza tra i giovani della sponda nord e della sponda sud del Mediterraneo sostanzialmente è che già allora quelli che abitavano le città dei paesi del Maghreb e della costa medio orientale avevano preoccupazioni legate ai diritti, alla libertà di espressione, alla libertà di movimento. Mentre i giovani della sponda nord, che quindi fanno parte di paesi già cosiddetti sviluppati, avevano delle preoccupazioni molto più contingenti. Si era da poco entrati nella crisi economico-finanziaria del 2008 e quindi i problemi che venivano sentiti soprattutto a nord del Mediterraneo erano quelli legati alla vita pratica, alla possibilità di avere un lavoro, di guadagnare uno stipendio, di pagare le bollette. Insomma, due realtà estremamente diverse che in realtà raccontano comunque di un momento della vita che è quello dei giovani, che è accomunato da sogni, passioni e uno sguardo rivolto al futuro. Per quanto riguarda il consiglio che invece vorrei dare oggi a chi si avvicina da spettatore alla fotografia è semplicemente quello di fare molta attenzione ai contenuti, di non lasciarsi ammaliare soltanto dalla forma, dall'estetica delle immagini. Ne vengono prodotti ormai a milioni da chiunque e per quanto questo possa essere per certi versi un bene sicuramente è un processo storico che ha innescato una serie di tranelli di cui tutti ben sappiamo e che possono indurci a non capire o a non informarci in maniera seria e approfondita su tante cose che succedono. E quindi sì, l'invito è quello a guardare sempre più al contenuto che non alla forma e all'estetica di un'immagine. Vi ringrazio per questo tempo che mi avete dato a disposizione, spero di aver detto cose interessanti e un grosso in bocca al lupo a tutti.